Ciao a tutti, oggi uno scattante e diretto consiglio letterario. Ho letto un libro infatti che mi è piaciuto molto e che sono contento di consigliarvi perché si tratta di un libro estremamente interessante, anche piuttosto originale, piuttosto profondo, nel senso che dopo averlo letto diverse sue parti mi sono entrate dentro e che fa riferimento a un genere letterario che molto spesso è poco trattato ma che allo stesso tempo ho notato e questo può diventare un interessante argomento di riflessione sarei curioso di vedere qua sotto nei commenti che cosa mi dite sta diventando comunque un genere che da una stretta nicchia o così si intende definirlo appunto il mercato di riferimento di questo genere sta assumendo sempre più una certa importanza anche da un punto di vista commerciale e pop e sto parlando della poesia. Il libro in questione infatti è All Your Own, resta a te stessa di Kate Tempest uscito recentissimamente per Edizioni E.O. La poesia, l'avrete notato, pur essendo un genere da sempre piuttosto sfortunato dal punto di vista commerciale perché nonostante sia pieno di autori che si sappiano far amare anche da un pubblico più vasto è difficilmente compreso, difficilmente fruito anche dai lettori occasionali tuttavia c'è da dire che al di là della qualità di determinate opere è interessante notare come il concetto di poesia si stia un po' trasformando anche in relazione con i nuovi mezzi di comunicazione, ad esempio i social è nata ad esempio l'insta poetry e qua bisognerebbe farci un bel discorso a riguardo un discorso per il quale, ammetto io stesso, nutro diversi enigmi nel senso che per me è ancora un'incognita dovrei entrare un po' meglio a capofitto per capirne qualcosa però basti pensare all'enorme successo commerciale dovuto al passaparola di un'autrice come Rupi Kaura che ha iniziato scrivendo poesie su Instagram accompagnando i suoi versi liberi a delle illustrazioni un po' caserecce e lanciando così anche una certa moda parliamo proprio di moda nel senso che tantissimi sono stati gli imitatori o comunque quegli autori che hanno sfruttato i social ispirandosi alla fama di Rupi Kaura per seguirne diciamo le gesta sono autori che differiscono molto rispetto all'autrice di cui vi parlerò oggi ma che allo stesso tempo ci lasciano intendere come la poesia ha la possibilità nonostante sia definito da molti come un genere vecchio come un genere di nicchia abbia la possibilità di reinventarsi di contaminarsi di ibridarsi e di poter parlare della contemporaneità in modo sempre più efficace sia sfruttando appunto i mezzi di comunicazione e quindi eventualmente anche un linguaggio più pop più vicino alle masse e dall'altra parte sfruttando anche la capacità tipica del poeta di utilizzare immagini ardite di utilizzare immagini sorprendenti e di sorprendere perché è quello che fa la poesia è mostrare la realtà attraverso un filtro innovativo un filtro originale un altro punto di vista ma questa realtà molto spesso quella contemporanea al poeta viene descritta in un modo tale da risultare appunto spiazzante ed è quello che avviene per Kate Tempest che prima di essere poetessa è una rapper è una cosiddetta esponente della spoken word poetry che è spoken word rap che soprattutto nel suo paese di origine l'Inghilterra ha una consistente fan base è interessante comunque vedere come i suoi libri in particolare questo che in realtà risale al 2014 e solo ora è disponibile in Italia e il suo precedente per noi italiani ma in realtà successivo per gli inglesi let them hit chaos ovvero che mangino caos siano entrati effettivamente nelle classifiche e abbiano ottenuto degli ottimi risultati di vendita ora sarebbe interessante parlare del fatto che può darsi che questo sia dovuto anche alla fama piuttosto underground musicale di Kate Tempest non stiamo parlando di Eminem che è un'artista conosciuto in tutto il mondo Kate Tempest ha una solida fan base ma diciamo che è conosciuta e apprezzata soprattutto dagli esperti del genere però l'autrice si è fatta notare per la sua magica capacità di gestire le parole è una bravissima rapper ed è un genere che io non ascolto molto spesso però incuriosito dalla lettura mentre leggevo questo libro che ho letto in un soffio nonostante volessi andarci piano perché ti coinvolge tantissimo ha una forza narrativa veramente sorprendente mi sono ascoltato dei suoi pezzi e devo dire che picchia duro ha una capacità veramente sovrumana nel giocare con le parole ed è una cosa che si ritrova anche nel suo percorso da scrittrice da poetessa che devo dire molto spesso si estranea rispetto a come usa le parole in musica nel senso che lei è consapevole anche del mezzo attraverso il quale sta parlando sta raccontando diciamo che All Your Own pur non essendo un libro che ho trovato perfetto nel senso che secondo me ci sono essendo anche una raccolta poetica dei momenti più brillanti di altri i livelli sono comunque molto molto significativi molto interessanti a partire dal fil rouge che connette tutti questi scritti ovvero il mito di Tiresia che è fonte di ispirazione per la Tempest il mito di Tiresia fa riferimento a questo indovino greco cieco cieco ma capace di conoscere la verità nonostante la perdita del senso attraverso il quale tendiamo a conoscere la realtà non dimentichiamo poi per i greci che in realtà la verità non avveniva attraverso la vista ma attraverso lo sviluppo dell'udito perché ad esempio chiudere gli occhi puoi farlo chiudere le orecchie no e anche quello è interessante cioè una verità monca nel senso che Tiresia comunque aveva accesso a determinati segreti ed era cieco proprio anche per il fatto così dice una delle versioni del mito che gli dèi l'abbiano condannato alla cecità in modo da non poter accedere ad alcuni segreti e profetizzarne ma Tiresia ha un'altra particolarità che secondo me è centrale per le tematiche del libro ovvero Tiresia è una persona che ha sperimentato sia l'essere uomo che l'essere donna infatti verrà tramutato da uomo in donna e questo è molto importante per la Tempest a livello di ispirazione nel comporre questo lungo poema quadripartito unito con altre comunque poesie per raccontare la contemporaneità ed è molto interessante che lo faccia ispirandosi al classicismo quindi tornando alle radici della letteratura in un certo senso e unendo proprio in un unica in un unico ibrido magico secondo me il poema classico alla musica rap perché il ritmo è molto rappato nel senso che nonostante ci sia una forte ispirazione classica sin dalla scelta del poema questo libro si legge come se fosse un rap ed è un rap che mischia anche qui l'alto l'aulico con il basso nel senso che ci sono tantissimi momenti all'interno della lettura dove ci sono degli sprazzi di poesia veramente immaginifica collegati a delle immagini sorprendenti per contrasto ad esempio che ne so la prima immagine che mi viene in mente presente in questo libro è il preservativo usato buttato per terra raccontato in tono poetico però a rappresentare il mondo in un certo senso un mondo anche abbastanza degradato degradante raccontato dalla tempest con rabbia ma allo stesso tempo con la tenerezza la sensibilità tipica di chi sa osservare bene le cose e quindi attraverso questo mito in questi versi sorprendenti l'autrice è in grado di raccontare l'essere umano dal suo particolare punto di vista al di là del genere quindi fa comunque delle riflessioni soprattutto a livello dell'amore delle relazioni dell'individualità dell'essere l'uno con l'altro uomo donna al di là dell'uomo e della donna fa anche delle riflessioni soprattutto a livello di linguaggio ovvero come si comunica con gli altri è molto presente il tema della solitudine è molto presente anche è molto presente anche una certa ironia feroce soprattutto nei confronti dell'individualismo della ricerca della fama dell'autorappresentazione del sé attraverso i social tutte problematiche tipicamente contemporanee che magari appartengono anche all'autrice ma che l'autrice racconta con feroce ironia dimostrando di avere comunque un occhio lucido sul mondo circostante la lettura è comunque molto molto agile nel senso che si legge veramente in un soffio e la capacità dell'autrice la si nota proprio per il fatto che le parole rimangono proprio marchiate si sente anche un certo respiro d'ansia non è una lettura per quanto avvincente in un certo senso non è una lettura leggera la Tempest colpisce duro e sa farlo molto molto bene perché come vi ho detto è una maestra nell'uso delle parole fatemi sapere se l'avete mai letta e fatemi sapere anche la vostra sul perché la poesia stia suscitando oggi tanto interesse io vi aspetto per un prossimo video fatemi sapere se avete mai letto qualcosa della Tempest appunto e se vi è piaciuta o non vi è piaciuta io ve la consiglio in particolar modo questo libro l'ho ritenuto molto interessante non sempre appunto allo stesso livello di altezza ma l'ina generale mantiene un'ottima media e sono curioso di recuperare il suo altro volume edito in italiano io vi aspetto per un prossimo video vi dico anche per gli interessati che questo libro Hold Your Own è in italiano con testo inglese a fronte niente questa poteva essere un'informazione interessata proprio agli avanti della poesia la traduzione comunque mi sembra di alto valore io vi aspetto per un prossimo video vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao e siate subdoli grazie a tutti Grazie.